buongiorno badani buongiorno leghisti buongiorno al nostro grande grande segretario matteo salvini che ti aspettavi ci sono i nostri giovani 44 per cento ci sono i nostri sudati i nostri fratelli e sorelle senza fratelli e senza sorelle nessuno ne pensa ci sono anche quelle categorie la nostra biblioteca e la nostra biblioteca memoriali di questo paese i nostri pensionati che non riescono mai a conciliare il pranzo con la sinistra biblioteca questi sono i veritaliosi che devono concentrare biblioteche questo governo deve imparare un po' aspettare ma se ma quello se no ma se poi ormai se ma aiutiamoli a casa loro la lega non è racista la lega è legista ma 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 se ma 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 realismo viene cambiato con il racismo se racismo viene scambiato con il racismo se racismo vuol dire pensare prima racismo vuol dire pensare agli italiani e lo siamo lavoreremo affinché combatteremo dipenderemo questa odioso immigrazione che non è immigrazione ma una vera e propria esodato e invasione pallina libera bassa al culo